Oggi, 16 novembre, la Chiesa Cattolica festeggia Santa Ilda. Nei secoli passati l'universo femminile veniva considerato poco o nulla. Tuttavia la storia insegna che alcune donne straordinarie hanno dato prova di grandi capacità. Nonostante fossero ostacolate da pregiudizi e ostilità. Una di loro è Santa Ilda, nata nel 614 in Nortumbria, Inghilterra settentrionale, in una famiglia di nobili legati alla casata reale. Il nome Ilda significa guerriera e deriva da Ilt, parola dell'antico tedesco. La madre di Ilda, mentre è in dolce attesa, fa un sogno. Sotto la propria veste trova un bellissimo brillante, capace di illuminare tutta l'Inghilterra. La donna pensa che la pietra preziosa rappresenti il figlio maschio che sta per nascere e che sarà un re valoroso. Invece arriva una femmina, Ilda. Allora la mamma, un po' delusa, sogna per la figlia un matrimonio splendido con un principe. Niente di tutto ciò. Ilda cresce alla corte reale e a tredici anni viene battezzata. È splendente come un diamante, saggia, buona, intelligente. Il suo destino è di illuminare l'Inghilterra, diffondendo la parola di Dio. Entra in convento e ne diventa l'abbadessa. In seguito viene chiamata a guidare altri monasteri. Nel 655 il re Osio di Nortumbria, durante una battaglia, fa un voto. In caso di vittoria avrebbe donato dodici campi per la costruzione di monasteri e avrebbe offerto a Dio sua figlia, Elfleda. Poiché la sua preghiera viene esaudita, il re mantiene la promessa. Fa entrare in monastero la figlia sotto la guida di Ilda e a quest'ultima regala uno degli appezzamenti di terreno che si trova a Whitby, contea di North Yorkshire, paese bagnato dal mare del nord. La monaca fa edificare una grande abbazia maschile e femminile, dedita allo studio e alla divulgazione delle sacre scritture. Il monastero guidato da Ilda diventa celebre e proprio a Whitby, nel 664, si tiene un incontro importantissimo tra varie correnti di pensiero cristiano, in disaccordo tra loro, voluto dal re Osio. A Ilda spetta il prestigioso e difficile compito di guidare l'incontro che avrà ampio successo. Ilda è una donna e il suo parere dovrebbe contare meno di niente. Eppure a lei per avere consiglio si rivolgono vescovi e regnanti. Anche la povera gente, dai suoi suggerimenti, trae il beneficio. Si narra che Ilda abbia liberato intere coltivazioni dall'invasione di anatre selvatiche e serpenti. Ilda muore nel 680 nel suo monastero di Whitby, pittoresco porto di pescatori, diventato oggi meta di turismo. Abbiamo trasmesso Ecco chi è Santa Ilda, breve a geografia tratta dal libro di Mariella Lentini, Santi, compagni guida per tutti i giorni. Grazie a tutti.